Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una richiesta che mi hanno fatto che è Sapore di Sale di Gino Paolo. Bene, prima di procedere a guardare gli accordi di questa canzone vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina così ogni qualvolta esce un video nuovo vi arrivi una notifica e lo potete guardare subito. Andiamo agli accordi. Bene ragazzi, questa canzone si compone di 5 accordi all'inizio che sono proprio Do maggiore quindi dove ci sono i due tastine di qui c'è la nota di Do, Mi, Sol, queste tre note formano il Do maggiore poi avremo La minore, andiamo indietro, Do, Si, La, La, Do, Mi, La minore poi Re minore, Re, Fa, La, E poi Sol maggiore, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Si, Re vi ricordo che gli accordi li possiamo prendere a qualsiasi altezza cioè se io prendo il Sol qui è un po' più scuro come colore però insomma il risultato è sempre lo stesso ed infine avremo il Mi minore quindi Do, Re, Mi, Mi, Sol, Si e la canzone inizia così Facciamo quattro battute e poi riprende questo giro armonico poi più avanti avremo un'altra parte di questa canzone dove si aggiunge un nuovo accordo che è il Fa maggiore quindi Do, Re, Mi, Fa, Fa, La, Do e Fa maggiore e faremo due movimenti per ogni accordo quasi sempre tranne qualche volta faremo quattro movimenti e fa così il tempo è nei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole poi torni vicino e ti lasci cadere e poi continua come prima e la canzone va avanti sempre con gli stessi accordi bene come abbiamo visto anche questa è una canzone molto semplice da suonare nel pianoforte io vi lascio comunque un link su dove trovate il testo con gli accordi di questa canzone in più altri due link di puntate dedicate a come imparare gli accordi al pianoforte ed in più la ditteggiatura per entrambe le mani se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra c'è una puntata che parla di come poterlo fare e quindi vi lascerò il link anche di quella in descrizione ciao ciao alla prossima ciao